Benvenuti, nuova puntata dedicata a Pescara tra storie e leggende, però a volte andiamo anche oltre. Ecco invece stasera, questa giornata, in questa trasmissione, ci soffermeremo su una mia pubblicazione del 2004 che recentemente l'editore Solfanelli per Tabula Fati ha voluto ripubblicare. Il libro è Dietro a Chiesa, racconti castellammaresi, quindi parliamo proprio del cuore di Pescara, della zona collinare. È un romanzo un po' particolare. Nel 2004 la prefazione, la presentazione fu di Vito Moretti, che ci manca da un po' di tempo, è venuto a mancare e ci manca a tutti noi. Scriveva Vito Moretti, leggo questa presentazione perché così si capisce benissimo di che cosa stiamo parlando. Scrive Vito Moretti Su alcuni fatti realmente documentati e su opportunità desunte da pagine d'archivio, Licio di Biase costruisce un romanzo storico che ha, come deve sempre avere, i tratti della fedeltà al vero, alla storia nelle sue coordinate di fondo e nei volti e nomi dei suoi grandi e piccoli interpreti, ma che ha anche la forza di rimemorare sul piano narrativo le atmosfere, i sentimenti, le psicologie di una comunità d'uomini, quella di Castellammare, sollecitata a chiarire se stessa di fronte alle vicende complesse della vita e agli orizzonti ideali della modernità. Sicché lo sguardo dell'autore, che sa discernere i momenti e i percorsi più utili nel gioco delle azioni e dei pensieri, e che sa anche ripristinare per il lettore i contorni e le stature delle singole esistenze, si incunea con argutezza nella realtà di quegli uomini, ne marca i costumi e le abitudini, ne espone le certezze, i propositi, gli smarrimenti e ne riconosce l'anima, il cuore, la volontà di essere quel comunque fu, malgrado le avversità e gli equivoci. In un quadro complessivo che tanto persuade quando sa unire le energie del documento con le risorse di una narrazione, dai timbri nitidi e dalle turgide e rotonde espressività. Ecco, questa è la presentazione di Vito Moretti di questo romanzo. Perché ho scritto questo romanzo nel 2004? Perché qualche anno prima avevo pubblicato Castellammare nel tempo, che è stato il mio primo testo, il mio primo libro, e con Castellammare nel tempo chiaramente avevo disegnato la storia di Castellammare. Castellammare era, fino al 1927, la zona a nord del fiume Pescara, da tra il fiume Pescara e il fosso Mazzocco fino al confine Cospoltore. E facendo quella ricerca, quel lavoro di grande ricerca, mi sono imbattuto in una serie di documenti straordinari, documenti che sembrano quasi delle pagine veramente di romanzo. E mi è sembrato interessante utilizzare una parte di quei documenti, concentrando la mia attenzione su un paio di anni, infatti siamo tra il 1837 e il 1838, quindi mi sono concentrato su due anni. E tutti i documenti di quei due anni li ho messi, li ho inseriti, contestualizzati nella narrazione. Che significa? Significa che io ho romanzato questi documenti, quindi fatti certi, addirittura il documento compare molte volte nella narrazione, che ne costituisce parte integrante e descrittiva. Così come i personaggi, tutti i personaggi reali, che sono stati poi da me ulteriormente definiti con ricerche d'archivio, con la ricerca soprattutto nei registri parrocchiali della Madonna dei Settolori. Per cui in questo libro, Dietro la Chiesa, noi riusciamo a percepire la vita di Castellammare, ma è la vita di una qualsiasi cittadina della prima dell'unità d'Italia del Regno delle Due Sicilie. Cioè i tratti caratteristici di questa cittadina, che era Castellammare a quel tempo era soltanto la zona collinare, via Consorte, oggi via Colle Innamorati, via Colle di Mezzo, ancora oggi via Colle di Mezzo, via della Marina, oggi Colle Marina, e poi c'era una zona, i Piani, che più o meno si articolava con qualche insegnamento particolare, i famosi casini, che erano queste belle ville, che stavano più o meno nell'area dell'attuale ospedale civile, ma erano pochissime nella zona pianeggiante, perché nel 1836-1837 la zona pianeggiante era semplicemente questa immensa pineta che costeggiava appunto l'Adriatica, attraversato dalla strada, questa strada consolare che univa il nord al sud del nostro paese. E quindi io che cosa ho fatto? Ho messo insieme tantissimi documenti e ho narrato la storia di questo periodo di Castellammare. Ecco, iniziamo al capitolo numero uno, apro con che cosa? Con il colera asiatico. Siamo nel luglio del 1837. A Pescara, quindi ancora a Piazza Forte, c'è un'esplosione, c'è l'esplosione del colera. Colera proveniva da Napoli e poi sappiamo benissimo che funziona oggi i contagi. Questo colera si era diffuso da Napoli alle zone del Molise fino ad arrivare a Pescara. D'altronde, la Piazza Forte di Pescara, pur essendo chiusa, era un luogo di una grande contaminazione, perché al suo interno vi erano i soldati che si davano il cambio con altri soldati provenienti dal sud, per cui questo colera a Pescara si era diffuso in maniera improvvisa. E che fece i pescaresi? I castellammaresi e misero il famoso cordone sanitario. Cioè, chiusero l'accesso dalla Piazza Forte al nord e quindi impedendo di arrivare non solo di attraversare la consolare, ma di recarsi dalla Piazza Forte alla zona collinare per evitare contagi. E qui apri di cielo. Intorno a questa cosa si aprì una disputa tra pescaresi e castellammaresi, perché i pescaresi ritenevano questo cordone sanitario ingiusto, perché da Pescara i commercianti, per esempio, non si potevano recare nel mercato di Città Sant'Angelo. Per i castellammaresi, invece, questo cordone sanitario significava isolare totalmente la zona collinare da ogni contatto e quindi poter salvaguardare la propria vita. Ma qui scoppiano dei casi incredibili e in questa pubblicazione, in questo romanzo, io riporto i documenti, le testimonianze vive di tutto ciò che accadde in quel momento con il sindaco, che era questo giovane sindaco, Giovanni Malagrida. Ecco, molte volte noi sappiamo che dalle parti dell'ospedale civile c'è questa via, via Malagrida, insomma, è la famiglia Malagrida che aveva la villa proprio da quelle parti ed era una delle poche ville non situate, non collocate nella zona collinare, come ho detto prima, ma in questa zona, in questa contrada chiamata Gli Piani, cioè una zona pianeggiante di Castellammare e stava di fronte al convento dei Cappuccini, che sarebbe di fronte all'attuale vecchio ospedale di Via Paolini. Ecco, Giovanni Malagrida, questo giovane sindaco, molto dinamico, molto attivo, viene definito veramente un ottimo sindaco, cercava in tutti i modi di salvaguardare la sua popolazione, gli abitanti di Castellammare, da questa drammatica situazione. Invece, i soldati della piazzaforte, soprattutto i militari con gradi importanti, i comandanti, eccetera, violavano, cercavano in tutti i modi di violare il cordone sanitario. E si aprì una disputa violenta che addirittura fece partire dei colpi di fucile da parte dei soldati della piazzaforte che fuoriusciti dalla piazzaforte, superati il cordone sanitario, si erano avvicinati addirittura alla Madonna dei Sette Dolori. Ma qui c'è tutta una storia incredibile, narro la giornata del 15 agosto del 1837. Il 15 agosto era una giornata particolare per Castellammare, perché? Che cosa accadeva? Accadeva che c'era c'era un atto notarile nel 1665 con l'istituzione della parrocchia della Madonna dei Sette Dolori che obbligava i contadini a dare del grano ai curati e questo avveniva il 15 di agosto. Per cui quel giorno come vedremo sarebbe stata una giornata veramente terribile. a Grazie a tutti 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 Grazie a tutti